Ben rientrati amici, eccoci qua, grazie per averci aspettato, avete fatto bene perché la serata è piena di grandi successi, di belle canzoni, dei nostri sorrisi, insomma della nostra simpatia che entra direttamente nelle vostre case. Ma soprattutto è ricca di musica e che musica! Ritorna la premiata band con Sogno Proibito, la voce quella di Nunzia. Premiata band, musica! Ma chi sarà? Ma chi bussa mai a quest'ora qui? Ormai è già mezzanotte o giudili Che sogno è? Oramai io non ci credevo più Chissà perché sulla soglia ci sei tu Entra, non far caso al disordine che stavo giusto per fare un caffè, dai lo bevi con me Entra! E' un nuovo chissà se va Grazie a tutti! E' un nuovo chissà! E' un nuovo chissà! E' un nuovo chissà! Ecco, poi d'un tratto un presagio in me Tu vincendo il disagio che c'è Dici che cosa vuoi Dici, ho bisogno, un favore da te Forse tu mi puoi dare se vuoi il cellulare dell'amica tua C'è un sogno proibito Guarda poi com'è finito Sei tu il mio incubo che non mi vuol più lasciare Io sogniamo un'avventura Mica questa fregatura Tu cavo il cielo e in un momento mi trovo giù Bello, troppo bello per crederci ma Tu vuoi solo l'amica mia che Nei tuoi sogni già c'è Bello, troppo bello per crederci ma Ormai è finito quel sogno proibito qui dentro di me Ormai è finito quel sogno proibito qui dentro di me Grazie a te per la voce di Nunzia Complimenti e questo ritmo così allegro che ci ha fatto tutti ballare Sicuramente anche gli amici da casa avranno ballato Salutiamo tutta l'Italia Grazie Poi avremo modo anche nel corso della serata di salutare tutti quanti gli amici che sono lì davanti al televisore Grazie